Ciao amici chitarristi, bentrovati. Oggi vi suonerò all'unaggio, metodo per arpeggiare, lo trovate su Amazon, il link è nella descrizione del video. Non perdo tempo in parole, vado subito col primo brano e siamo in quattro quarti, quindi conto le quattro pulsazioni. Preparo già la mano sinistra, come si deve suonare, quindi dita frontale al manico. Ecco qui, prima nota melodica. Seconda nota melodica. La melodia è affidata al medio della mano destra, in tutto il brano, in questo arpeggio. Mi raccomando, posizionate il metronomo alla velocità che volete e studiate lentamente a tempo, come sto facendo io. Posso anche scaricare la mano, la tensione, metterla in giù. Torna sopra che siamo pronti per suonare. Questa è la posizione più difficile. Poi tengo fermo il primo dito e alzo il terzo dito, mano sinistra. E l'esercizio è arrivato alla fine, quindi vado a rallentare, ad abbassarmi anche con la velocità e il finale. Allora, l'ho suonato lentamente. Leggetevi la prefazione del libro perché do alcune linee guida. Lo risuono un pochetto più veloce perché dobbiamo aggiungere un po' di dinamica, la troverai indicata con quelle forcelle che vedi. Bisogna anche andare un po', dico io, a sentimento, rispettare anche il fraseggio, comunque la guida del vostro insegnante vi aiuterà. Aumento la velocità. Cambio di intro perché si ripete. Aumento la velocità. Mi raccomando, in questo studio l'accento va al pollice e al medio della mano destra e rispettano gli accenti della quadratura ritmica del quattro quarti. Cioè forte, debole, forte, debole. Forte, debole, forte, debole. Forte, debole, forte, debole. Ok? La melodia si incastra in questo esercizio, su come vi ho fatto vedere prima, sul terzo tempo di ogni battuta. Ok? Buon lavoro, studia lentamente. Se hai domande, lasciamole sotto il video e ti risponderò. Grazie.